Ciao a tutti da Cristian TJ, il salutatore del blog, grandissima sorpresa, gli Abissamip, Gaetano e Carmen. Salutiamo tutti gli amici di Youtube, MySpace, Facebook e Twitter e i fans i vostri che si trovano sul sito www.nordop.com. E ciò dal Festival Internazionale del Cinema di Roma, Cristian TJ, gli Abissamip, ciao!